Nel corso dei prossimi giorni persisterà un flusso di correnti umide atlantiche, infatti l'anticiclone si manterrà in posizione periferica sul comparto occidentale del continente e sul sobordo nord orientale scorreranno masse d'aria più fresca appunto dall'Atlantico in direzione dell'Europa, il bacino del Mediterraneo, che andrà ad alimentare una circolazione di aria instabile presente sul Mediterraneo centrale e l'Italia, che nel corso dei prossimi giorni darò logo a un cielo irregolarmente nuvoloso, giovedì anche al nord-est, ma il tempo poi migliora gradualmente al nord, mentre venerdì, lo vediamo nell'immagine successiva, si concentrerà maggiormente sulle nostre regioni centro-meridionali. Ci aspettiamo infatti piogge sparse e un po' più organizzate rispetto a quelle dei giorni scorsi al centro-sud, con occasione anche per dei temporali lungo il versante tirrenico. Le temperature saranno più consone alle medie stagionali al nord, con massime intorno ai 13-15 gradi, mentre al centro-sud il clima rimarrà ancora particolarmente nite, con punte diurne fino a 18-20. Con questo è tutto, per aggiornamenti in tempo reale scaricate l'app di Trebi Meteo.